Iammia Carmela, Iammia! Calugliaccia squaglietta! La neve è bella, ma non piaccia! Tieni per le vrocchie stamattina? Ah no! Niente vrocchie! No, no! Ciao Pasquale! Attendo a non scivolare! Tieni a chiedere! E' squaglietta la neve, un po' di grigliaccia stai, eh? Sì! Le macchine sono passate oggi? Le? Le macchine? Sì, sì, passano! Ah, passano le macchine! Però la piazza è sempre bloccata, fino a qua arriva! Oggi hanno scaricato la macchina! Hanno scaricato oggi qua? Scarca la macchina, non si va bene! Noi sono le montagne! Quanta neve che stai da! E qui siamo al Perillo! E che piente catina! E che è una faloppina! E guarda qui! Degli cetoli, sì! Vedo il castello in fondo! E' vero! E' vero! Sì! E' vero! E' vero! E' vero! questa parte qui! Che si va verso San Rocco! C'è molto vento! La mattina! E qui siamo al San Rocco! Questo è quello che rimane della neve! E così già riprendi! Ok! Poi questo... Vieni Axel! Vieni Axel! Vieni Axel! 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 Ma che te la leva là? Vedi? Vedi? Vieni? Vai! E questo è San Rocco! Sant'Agatesi nel mondo! Ovunque voi siate! Gino Vagnesio qui per voi! San Rocco! La salita verso il castello! E' uscito anche il sole! E' uscito anche il sole! La ripresa qui al castello! La ripresa qui al castello! Questa parte è qui del castello! Proviamo a salire così sentiamo i passi nella neve! Stanno attendo a non sciullare! Fermiamoci qui! Vediamo il panorama! Fermate pure l'immagine del video! Per godervi il panorama! Non è capace di fare tutto questo! Fate pure voi! Con il vostro mouse! Eh che bellezza eh! Sembra un quadro! Facciamo altri passi nella neve qui al castello! E qui abbiamo il sole contro! E qui abbiamo il sole contro! Noi! cari amici santacatesi ovunque possiate ripetisce il mio piccolo video per voi come avete visto siamo al castello questa è l'ultima neve credo che non divicherà più per ora e salutiamo i santacatesi e Pino in questo modo saluti a tutti e buona neve a tutti